...un altro tipo di acqua, allora vedrai anche la fila di acqua... ...c'è lunga la acqua... ...comunque... ...però la palletta, la compresa... ...c'è la rabbia per forza... ...quanno è taglio? ...e l'oreggio... ...io ho superato l'Aleggio molto... ...lo so, però... ...prima che ci arrivi... ...questa mole vede pure... ...io sono allergico alla canna... ...lo so, ti sembra... ...quanto ha? A 400 euro... ...questa è finocchio serbato... ...è una specie di olio essenziale... ...questa è la scienza... ...è piante...